È notizia di questi giorni la ricostruzione del volto santo anche grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Naturalmente io sono sempre coinvolta anche in queste novità. C'è uno studioso svizzero di origine italiana che vive in Brasile e che da molto tempo, mi ha detto, più di un anno, che lui sta cercando di ottenere il volto di Gesù originale dalla Sindone con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ecco, lui mi ha detto, attenzione, non è che l'intelligenza artificiale è una magia che con la bacchetta magica tira fuori le cose. No, è uno strumento che bisogna saper usare. È uno strumento importante. Io sono favorevole all'intelligenza artificiale, anche perché non potrei andargli contro, visto che ho visto che ci sta pure il mio nome sull'intelligenza artificiale. Dico, mo, che me la prendo con l'intelligenza artificiale? Però va usato con granusalis, come si dice, no? Cioè, con intelligenza. Cioè, bisogna dare le informazioni e l'intelligenza artificiale le lavora e poi, ecco, si collabora. Ecco, mi diceva Otangelo Grasso, questo studioso, io collaboro, no? L'intelligenza artificiale mi aiuta, ma sono io che guido, no? Le cose, in modo tale, ecco, da avere poi questo volto su cui lui ha lavorato molto e mi pare, di quelli che ho visto fatti con l'intelligenza artificiale, questo veramente mi sembra il migliore, il più aderente alla sindone, perfettamente sovrapponibile. Ha fatto un grosso lavoro. Otangelo ha scritto anche un libro che forse uscirà in Italia, ma è interessante questo risultato. Ecco, perché vogliamo vedere il volto di Gesù? Non c'è niente da fare, no? E dice, Filippo dice, mostraci il padre, no? E Gesù dice, ma chi vede me vede il padre, quindi accontentatevi, insomma, avete avuto tanto. Certo, chi ha avuto la fortuna di vederlo a quei tempi ha avuto una grande grazia, ma noi con la sindone siamo un po' come San Tommaso, possiamo in qualche modo mettere il dito in quelle piaghe e quindi oggi, dopo la fotografia, perché fino al 1898 non si vedeva il volto così come in negativo e dal negativo parte, appunto, il Brunner, dalla fotografia, la medaglia di Madre Pierina e tutto un concatenarsi e un intrecciarsi di ricerca che porta sempre lì, al nostro desiderio di vedere il volto di Gesù. E anche l'intelligenza artificiale ci ha dato una mano. Non si sottrae a quel desiderio. Ma allora, Don Gaetano, perché... Grazie a tutti.